Sono Gianluca Forestiero di Studio ATA, un'associazione professionale di architetti di Torino, siamo dieci soci, siamo stati invitati qui a Serinunte, il tema su cui eravamo chiamati erano le commissioni tra arte e architettura. Noi abbiamo pensato di partecipare rispondendo a questa domanda con una video intervista all'architetto Francesca Canfora, la nostra principalmente amica, collega, che è curatrice di Paratissima e curatrice anche di mostre dove noi siamo intervenuti in più occasioni con o delle installazioni o mettendo il nostro studio a disposizione come area espositiva, oppure organizzando delle mostre. Abbiamo sottolineato una nostra installazione al castello di Rivara, la mostra era destinazione d'uso, dove abbiamo fatto un'installazione caratterizzata dai nostri plastici e dai modellini sospesi tra cielo e terra dove la gente poteva camminare attraverso.